Ci sono temi sui quali i broadcaster non vogliono lavorare, ci sono contenuti che i broadcaster non vogliono ricevere, che che ne dicano non vogliono coprodurre, e questi contenuti sono quelli di cui si parlerà qui, quest'oggi. In generale il broadcasting italiano non vuole i documentari, non lo dice, quello che dice è per favore portateci delle serie, per favore metteteci un conduttore, per favore definite dei format. Lo dicono così, innocentemente, e altrettanto innocentemente permettetemi di dire che cosa ne penso io, che vogliono uniformare il documentario, strumento di lettura, di interpretazione della realtà, alle linee editoriali delle loro redazioni. Che male ci sarebbe se ci fosse una informazione alternativa, che però non c'è, anzi quella che nasce in rete viene chiamata webete, viene accusata di distribuire fake news, viene accusata di non essere accurata. Forse queste accuse nascono dalla coscienza di chi le formula. In generale, per chiunque, anche il più affezionato a Rai o a Sky o a Mediaset, per chiunque è difficile dire, io mi sento informato sui temi della geopolitica, mi sento informato sui temi del commercio internazionale, mi sento informato adeguatamente sui temi del riarmo e del disarmo. Obiettivamente questa informazione non c'è, non c'è questa informazione e non c'è nemmeno la discussione politica. Eppure l'Italia è lì dov'è. È la cerniera che è sempre stata tra est e ovest, tra nord e sud. Ed è impensabile che in Italia non si pensi internazionale. È impensabile che in Italia si pensi internazionale su cose che tutto sommato negano l'essenza stessa del ruolo che l'Italia potrebbe giocare, come per esempio lo Hub del Gas. Il Sole 24 Ore ha costruito su questo Hub del Gas una quantità di articoli. Provate a fare la ricerca con Google. Sole 24, Hub del Gas. E vi vedete una bella catena di articoli. E beh, proprio cercando questo Hub, che non è mai stato presentato come un unico progetto, sempre a pezzettini perché così le valutazioni ambientali erano più favorevoli, siamo arrivati nel posto in cui il gas dovrebbe arrivare a Zerbaicciana e giù in Lucania. E poi da lì sto tubone risalirebbe con centri di compressione sotterranei lungo tutta la dorsale sismica dell'Apennino, quella che vedete bella viola nei telegiornali sui vari terremoti, purtroppo. Ebbene, lì vogliono far salire questo gas, ma la cosa ancora più impressionante è stata quando, uscito a maggio, un libro di Noam Chomsky, Who is the World? Chi comanda il mondo? È uscito anche in italiano da poche settimane. Uno studioso americano ci informa, forse molti dei presenti qui lo sapevano già, che da un po' di anni le pipeline, i gasdotti, sono diventati oggetto strategico di interesse nato, di intervento automatico. Sono diventati estensioni dei territori, dei paesi membri della Nato. Allora, hub del gas uguale impatto sui territori italiani, eradicamento di ulivi nel Salento, centrali di compressione sospettate di favorire i movimenti tellurici lungo tutta la dorsale appenninica, e infine enormi centri di compressione nella zona di Cremona. Questa è diventata la politica internazionale dell'Italia? È evidente che il rapporto tra quello che si vede sugli schermi e quello che c'è nella realtà, alle volte va nel senso della riscoperta della verità, alle volte va nel senso della costruzione di un muro di propaganda che nega la verità, che ne impedisce la visione. Credo che il documentario italiano abbia grandi possibilità di mercato, di mercato. Non sto parlando di documentario che si prefigge di rivelare delle verità assolute, e nemmeno che si prefigge di costruire nuove organizzazioni politiche. Parlo di documentario che dice ad un pubblico insoddisfatto della informazione che ha ricevuto sinora. Ecco, questi sono contenuti accurati, verificati, realizzati da persone che prima di tutto hanno cercato la qualità. Il 2016 potremmo anche definirlo benissimo come l'anno dello schianto del grande mainstream, basta guardare le elezioni in Inghilterra, negli Stati Uniti e anche da noi ci abbiamo messo, anche noi italiani, ci abbiamo messo anche noi nel nostro piccolo, ce l'abbiamo messa tutta e abbiamo sconvolto tutti i parametri delle previsioni che ci davano le televisioni che forse avrebbe vinto Renzi nel suo referendum per la Costituzione. E invece non è stato assolutamente vero, nonostante avessero delle portaerei con televisioni, giornali, tutti dalla loro parte, gli italiani hanno vinto col 60%. Quindi questo vorrà dire qualcosa. Le persone si sono stufate, non ci credono più. Una grandissima esperta di giornalismo, una tale botteri, dopo le elezioni di Trump si è anche chiesta, ma che fine faremo? Si chiedeva che fine faremo? Ormai hanno capito che il giornalismo tradizionale, tra virgolette, è arrivato a un punto di svolta. Però perdonami, se la curva di attenzione sui grandi mainstream è in discesa, la curva vostra è in salita? Abbiamo dei dati al riguardo? Sì, abbiamo dei dati al riguardo. Dunque, siamo saliti a un milione e mezzo di persone mensilmente qualche mese fa. Drammaticamente sta ancora aumentando. Siamo arrivati anche a 3 milioni. Ovviamente c'è stato l'apporto di alcune televisioni piccole, come teleambiente per fare un esempio, ma ci sono altre televisioni che hanno il digitale terrestre che nel loro piccolo ormai raggiungono il territorio. Noi siamo ben contenti di poter passare questo materiale a queste televisioni, perché con il digitale terrestre è chiaro che noi raggiungiamo un pubblico molto più vasto. Non dimentichiamo anche che comunque noi abbiamo un piccolo accordo con RT. RT, come Russia Today, ci consente di poter dare queste notizie dal momento che noi le possiamo valutare, le prendiamo, le scegliamo. Il patto è questo. Noi non siamo una velina di RT, sia chiaro. Noi prendiamo queste notizie e dopodiché facciamo le nostre news. E poi le condiamo anche con degli speciali. Andando avanti siamo riusciti a portare delle collaborazioni in Inghilterra. Quindi abbiamo il polso dall'Inghilterra. Abbiamo delle collaborazioni con un'altra tv libanese, Almanar. Quindi anche loro ci stanno seguendo. Le persone che vogliono dicono sì, mi piace quello che stai facendo, mi piace effettivamente. E allora io mi sento in grado di poterti dare 5, 10 euro, 30 euro. Quello che posso, te li do.